Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it I commissariamenti hanno un senso, se ricostruiscono un tessuto non se stabilizzano correnti, così il presidente democratico Matteo Orfini sul mattino di oggi. Il caso PD Campania coinvolge anche l'Irpinia. I soldi delle tessere ci sono, manca l'anagrafe degli iscritti. A Napoli per sospetti brogli, in provincia per i limiti imposti al tesseramento e il giudizio sospeso sul tesseramento online. C'è chi ha ipotizzato che la Campania potesse addirittura restare fuori dal congresso nazionale, non sarà così, assicurano i vertici regionali. A Vellino è monitorata, spiega ancora Orfini, ed è la conferma che sarà Roma a sciogliere i nodi. La decisione del Nazareno è attesa in giornata. Da un lato ci sono i segretari di circolo sul piede di guerra, dall'altro i possibili esclusi dell'online, con diversi sindaci e dirigenti. Una volta decisa la linea, sarà la commissione congressuale provinciale a certificare le iscrizioni. In queste ore prende corpo la decisione di affidare la scelta a cinque persone, quattro delegati dal direttorio più un membro dei giovani democratici. Una cosa appare scontata. Le persone ammesse a scegliere tra Renzi, Emiliano e Orlando, conteranno anche nel congresso provinciale, che si svolga subito o che slitti, come appare più probabile. Per chi voteranno, a questo punto non è affatto scontato. Detto in altre parole, e stando a quelle di Orfini, la linea è garantire le correnti espressione di Paris, D'Amelio, De Luca e Famiglietti. Ma il direttorio è un commissariamento oppure no? Nell'incertezza è difficile che avvenga la ricostruzione del tessuto, pure auspicata. Piuttosto nel PD avanzano le ipotesi di ricorso degli scontenti, che da un lato o dall'altro ci saranno.